Siamo a 500 metri dalla conclusione, Cova è rimasto sulla scia di Vainio, Alberto Cova è sempre là, immutato il vantaggio e i giochi sono fatti per quanto riguarda la medaglia d'oro ed argento, suona la campana dell'ultimo giro, Vainio ancora si produce in un allungo, la sua ampia falcata lenta, accenna a ritmarsi ancora di più, Cova è sulla sua scia, inacquato inacquato è Cova, è sempre lì, mancano 250 metri, Cova ancora non accenna a partire, è sulla scia del Finnico, ancora allunga il finlandese nell'ultimo disperato tentativo di stroncare la resistenza di Cova, che in curva passa irresistibilmente, scavalca letteralmente il finlandese, lo schianta di potenza, nulla da fare per Vainio e assistiamo al nuovo trionfo di Cova che ha addirittura il tempo di sollevare le braccia, salutare il pubblico dopo aver stroncato il finlandese con uno scatto irresistibile.